Già studei in trasferta per incontrare una persona speciale per la quale vale la pena di uscire dallo studio poiché lui non poteva essere in studio con noi, è l'arcivescovo di Bari Bitonto, il presidente della conferenza episcopale pugliese, Monsignor Giuseppe Satriano. Bentrovato, bentrovato davanti ai nostri telespettatori di Padre Pio TV. Che cosa significa per lei questa nuova responsabilità? Da qualche mese dunque presidente della CEP. È una responsabilità gravosa, però che ho accolto con grande disponibilità vista la stima dei confratelli. È una responsabilità che cade in un momento delicato, particolare della vita della Chiesa. Siamo in una fase di transizione, di cambiamento, quindi non è facile in questo momento proporre ricette precotte, precostituite. Bisogna mettersi molto in ascolto. Bisogna mettersi in ascolto delle nostre Chiese, dei pastori delle Chiese, per cercare di coordinare un lavoro che già abbiamo imparato a vivere all'interno delle nostre Chiese diocesane mediante il Sinodo e che siamo chiamati a incarnare anche come Vescovi nell'esercizio di quella collegialità che poi è l'anima anche della Sinodalità. Si spera, ecco, di poter disegnare anche per le nostre Chiese insieme, in un esercizio di corresponsabilità, percorsi che siano profumati di Vangelo. E il Vescovo di Roma lo conosce a fondo? Qual è il vostro rapporto? In che cosa di più lo sente affine? Il Papa è una persona che conoscono tutti a fondo. Ormai il Papa è leggibile nel suo modo di essere e di pensare. È un uomo che vuole dare alla Chiesa l'opportunità di uno scatto di reni. Una Chiesa che, soffocata anche dal benessere, si è un po' adeggiata, si è un po' impigrita. E diciamo anche è stata ferita da questa esperienza del Covid che ha, diciamo, poi fatto venire a galla tutte le fragilità e le fatiche dei nostri vissuti. Il Papa è un uomo autentico, un uomo che nel suo parlare giunge al cuore e che ci sta dando proprio in questo cambio di paradigma, così come lui lo chiama nell'Evangelii Gaudium, questo rinnovamento della pastorale in chiave missionaria, ecco appunto la lente con cui agire, pensare, riflettere, confrontarsi all'interno delle nostre Chiese. Anche l'ultima riflessione che il Papa ci ha regalato, la Laudate Deum, si chiude proprio con un invito a tutti i credenti ad una comunione e ad una corresponsabilità nel cambiare passo, nel camminare insieme. Che cosa la fa sentire veramente convinto della scelta che ha fatto di dedicarsi a Santa Madre Chiesa dal punto di vista intimo, personale? Io vedo la vita del sacerdote, quindi sperimento la mia, ma l'ho sempre sognata così, come un'esperienza di inuzialità. E diciamo che l'immagine che più mi ha attratto in questa è proprio quella di San Francesco. San Francesco ha amato la Chiesa, in un momento delicato, in un momento difficile, mentre molti movimenti ereticali la condannavano, la giudicavano e ne uccidevano anche i pastori. Francesco invece ha amato questa Chiesa perché è amata da Cristo. Ecco io ho scoperto questo proprio attraverso la spiritualità francescana, questo grande, tenero, appassionato amore di Dio in Gesù Cristo per l'umanità e per la sua Chiesa. E allora essere presbitero, come essere anche vescovo, essere pastore, non è un'esperienza di leadership, è un'esperienza di inuzialità. Vivere la propria vita donandola alla sposa amata da Cristo, come amico dello sposo, diventa l'avventura meravigliosa, talvolta anche faticosa, anche ferita, ma stupendamente bella e fortemente generativa dell'esperienza, ecco, di un presbitero, di un vescovo. Tra tante cose importanti, io voglio però adesso ancorarla anche a qualcosa che magari aiuta di più i nostri telespettatori a conoscerla. Padre Pio, San Nicola, due flash sul suo rapporto con questi due santi. San Nicola io l'ho conosciuto venendo a Bari perché lo conoscevo da prima ma non ne avvertivo la portata. Non è arrivato da molto lontano. No, però Brindisi guarda verso Lecce, Brindisi guarda verso il Salento, io sono di origini brindisine, ma ed è andando in Calabria che ho scoperto la forte devozione che c'è in tutto il mondo per San Nicola. Dopo la Vergine Santa San Nicola è il più venerato nel mondo, ma è arrivando a Bari che ho scoperto attraverso l'affetto dei baresi la portata evangelizzatrice e direi anche taumaturgica e fortemente spirituale che San Nicola ha ancora nella nostra vita di credenti e nel nostro tessuto pugliese. Con Padre Pio il rapporto è stato più conflittuale perché io di Padre Pio ricordo quello che mi veniva raccontato da ragazzo che cacciava le persone dal confessionile quando si affiancavano alcune persone un po' curiose, un po' desiderose, ecco, di usare il sacramento per conoscere lui. Mi sembrava strano che un uomo di Dio fosse così duro e devo dire che proprio negli anni di seminario io ho approfondito la lettura degli scritti di Padre Pio e della sua vita e me ne sono innamorato. Per cui cammino anche nella mia vita con una reliquia di una benda del costato che sono riuscito ad avere attraverso una strada. Una reliquia di primo grado. Sì, 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 perché c'era una sua figlia spirituale che lavava queste bende e qualcuna l'aveva trattenuta e attraverso una sua parente ne ho avuto un pezzettino e la porto con me. Non come segno di protezione ma come motivo di riflessione. Chi ama Gesù Cristo deve imparare a versare il suo sangue nella sua vita. Cioè la fede è qualcosa che deve costarci. Così come la nostra vita è costata il sangue di Cristo, così la nostra relazione con lui e con la Chiesa ha bisogno del sacrificio, ha bisogno dell'offerta di se stessi, ha bisogno di una vita donata. E Padre Pio rappresenta questo. Parliamo adesso di lei come figura fondamentale anche sul fronte esterno, non solo interno alla Chiesa. I problemi sociali, la questione della pace, i migranti da accogliere. Lei davanti a che cosa ha maggiore speranza e quasi certezza che le cose miglioreranno? Beh, intanto io non sono una grande persona, sono una piccola persona. Sono un uomo che è stato chiamato ad un servizio. Beh, io credo da sempre nella valenza educativa. Cioè non sono i temi in sé che ci rendono capaci di cambiare la realtà, ma è la capacità di cimentarci in una scommessa, in una sfida educativa sulla quale direi tutti quanti abbiamo abdicato. Oggi la riscopriamo come, nuovamente come emergenza, ma non dimentichiamo che sotto il pontificato di Benedetto XVI questa emergenza è tornata a galla. La Chiesa italiana ha dedicato un decennio anche al tema dell'educazione, però è come se questa cosa avesse perso generazioni. Noi abbiamo un gap generazionale enorme e questo ci dice che dobbiamo rifondare un percorso educativo. Non si può avere risultati sul fronte della pace o sul fronte della migrazione, del rispetto dell'altro se ci ritroviamo a lavorare soltanto su alcuni principi. Qui si tratta proprio di rifondare una dimensione dell'alterità del valore dell'altro, della dignità dell'uomo che soltanto attraverso percorsi educativi capillari e direi talvolta anche apparentemente impercettibili che si può arrivare a cambiare la situazione che abbiamo di fronte. Però anche per rendere giustizia alla sua arcidiocesi, alla splendida e proiettata verso l'Oriente Bari, faccia lei un esempio di qualcosa che davvero dà il segno di una Chiesa che sta dentro il mondo e lo migliora. Noi ci stiamo interrogando su questo e direi che prendiamo parte attiva a tutto un lavoro di riflessione che vede Bari, come dice il Papa, capitale dell'unità e dell'unità della Chiesa. Il suo ruolo ecumenico non lo inventiamo oggi, è un ruolo che si è accreditato nel tempo, direi quasi nei secoli. Oggi ci rendiamo conto che per affrontare le tematiche che sono sul tavolo, le citava lei, il tema delle migrazioni, il tema della pace, non possiamo rimanere ancorati a Bari. Ma Bari deve avere il coraggio, Bari, l'Europa, di mettersi nel cuore lo sguardo di chi vive queste problematiche. Quindi abbiamo proprio pensato di iniziare a creare delle relazioni personalizzate con i paesi del Mediterraneo. L'anno scorso abbiamo avviato e ripreso meglio una relazione con l'Albania attraverso una visita a Tirana e a Durazzo, sulla tomba, o sul luogo meglio, del sacrificio di Monsignor Vinzer Pernusci. Quest'anno andremo in Libano, a Dio piacendo, a incontrare i capi delle Chiese del Libano, ma anche ad ascoltare le fatiche e le sofferenze di quelle comunità cristiane che stanno vivendo situazioni collegate alla guerra, collegate anche alla differenza religiosa e all'impoverimento di una nazione che sta vivendo veramente situazioni molto difficili. Quindi in questa maniera creare delle relazioni di reciprocità per imparare a leggere le fatiche dell'oggi, non solo con quello che viviamo noi qui, la conseguenza dell'immigrazione, ma anche con quelle che sono le attese e i desideri di questi popoli che vivono al di là del Mediterraneo. Per chiudere, guardando proprio i nostri telespettatori negli occhi, quindi guardando l'obiettivo in questo caso, ma sono tutti molto vicini, una parola che devono tenere presente nella vita quotidiana? Io credo che dovremmo imparare a coltivare lo stile della porta, assumere la postura della porta, cioè imparare a stare sulla soglia della vita. È sulla soglia della vita che incontriamo i nostri limiti e i limiti degli altri e assumendo questa postura della porta che impariamo ad abitare la relazione come uno spazio fecondo, uno spazio vuoto da atteggiamenti prepotenti, ma uno spazio anche aperto, capace di mettersi in gioco e affrontare la vita insieme all'altro. Ecco, credo che questo atteggiamento per tutti, credenti e non credenti, sia un atteggiamento significativo e ricco di valore che dobbiamo riscoprire nella nostra vita.